Si parla di edilizia scolastica e si parla di davvero una grande notizia per l'Abruzzo. Arrivano dei fondi e sono tanti. Circa 10 milioni di euro destinate a progetti di poli scolastici innovativi e aggregativi. Si passa da una fase in cui i finanziamenti erano distribuiti anche su tutti i comuni, anche su quelle scuole che tra breve andavano a chiudere, a proposte innovative e aggregative che vanno nella direzione di costruire dei pressi nuovi, moderni, per le scolaresche di più cittadine. Nell'ambito di questo progetto si sono individuate delle priorità. La prima è la realizzazione nella zona di Villarea, quindi nell'area metropolitana Pescara Chieti, di una struttura nuova in un'area di proprietà della provincia di Pescara, dove si realizzerà un biocampus abbinato a un settore di istruzione e di alloggio per gli studenti del settore cibo, sia l'alberghiero che l'istituto agrario. Poi ci sono interventi fatti nell'Alto Vastese, nella zona della Massica, in località Colarmele, e più due interventi proposti sul territorio di Teramo. È frutto di un grande lavoro e di un grande interesse. È stata fortemente voluta sia dall'amministrazione provinciale di Pescara che da quella comunale di Cepagatti. Io personalmente mi sono interessata della ricerca e della segnalazione di questa scuola, che rappresenta un vero e proprio campus da adibire, anche per utilizzarlo in modo da decongestionare le scuole di Pescara. Quindi potrebbe essere utilizzato anche per gli aspetti del convitto e per risolvere definitivamente il problema della scuola alberghiera di Pescara. È una struttura bellissima, si trova all'incrocio di due province, per cui abbiamo sia la parte chietina che pescarese, ben collegata, molto ampia e quindi ringraziamo tutta l'amministrazione regionale, in particolar modo l'assessore all'edilizia scolastica, l'assessore Di Matteo, per aver portato avanti questa mia richiesta, frutto di lavoro iniziato da mesi e mesi.